Ciao Fabio! Ciao, ben trovato! Sei ancora al mare immagino? Ancora sì, ancora per un giorno poi si torna Come eri anche al mare lo scorso weekend a Rimini È vero, un bel mare devo dire, a me è piaciuto molto Rimini la conosco perché ci sono state in varie occasioni ma in questa occasione poi è stata diciamo la bellezza naturale è stata accompagnata dalla simpatia dei nostri redattori siamo andati come sai insieme a cena e quindi tutto ha assunto una piacevolezza maggiore Sì, sì Poi vabbè, appena dopo finita la stagione praticamente il prezzo degli hotel era praticamente ridicolo c'erano i 4 stelle a meno di 60 euro bellissimi e c'era anche spazio per chi voleva spendere meno ristoranti proprio spettacolari a dei prezzi veramente fantastici, quindi anche da quel punto di vista uno sta a Rimini anche più volentieri rispetto ad altri Sì, anche perché è un periodo che lambisce il fine stagione quindi tutti fanno praticano dei prezzi molto convenienti per non dire come decidete il mangiare che è veramente eccellente e poi direi pure la simpatia perché sono simpatici è vero, è vero, è vero, è vero e poi il posto è pazzesco il Palacongressi di Rimini è spettacolare ma questo lo sapevamo già perché non è la prima volta che andiamo al Palacongressi ad ascoltare l'Alta Fedeltà beh, vogliamo dire che forse è la più bella struttura italiana per le mostre audio-video gli spazi sono amplissimi l'architettura è moderna ed è gradevole l'organizzazione, devo dire, è eccellente sia all'accoglienza che nelle occasioni in cui qualcuno volesse uscire o rientrare abbiamo visto che hanno quei braccialetti colorati insomma, francamente non c'è da lamentarsi le sale per le grandi le grandi hanno avuto tutto quel trattamento acustico Fantoni Group e quindi suonavano e come? le piccole erano sale nelle quali i singoli operatori hanno dovuto un po' lavorare però credo che molti sapessero che il problema c'era e si sono preventivamente disposti per farlo sì, diciamo che qui chi è venuto anche nelle altre edizioni era leggermente avvantaggiato penso per esempio alle sale breakout dove era per esempio Yamaha audiograffiti e anche altri e per esempio la sala Yamaha suonava soprattutto le bookshelf quelle piccoline le NS800 strepitose di cui parleremo sicuramente in maniera più approfondita perché quella era una saletta che conosceva sicuramente Matteo Franciullo mentre magari altri un po' meno io l'ho trovata paradigmatica quella sala perché era una sala che offriva al contempo una sala un corridoio dai cioè lungo 8 metri e 70 un corridoio è vero largo 3,5 metri volevo dire un'altra cosa naturalmente la sala non era granché hanno fatto un miracolo non so come questi di Yamaha probabilmente anche grazie allora lì per esempio lui ha messo cioè ha sfruttato parte della sala perché ripeto dopo anni che vai lì capisci un po' i segreti di una sala del genere invece altri no poi diciamo c'era anche un po' di trattamento dietro la villa che aveva messo quindi comunque insomma qualche ripeto uno che già da anni va lì un po' di vantaggio ce l'ha è indiscutibile però l'impianto suonava io mi permettevo di dire paradigmatico nel senso che in realtà forse una certa difficoltà che c'è a sintonie e ad ascoltare impianti che suonino o nel caso che si vedano perché parliamo anche di audio video a dei prezzi che siano umani naturalmente non tutti quelli che vanno a sintonie hanno intenzione di spendere cifre blu questo non vuol dire che non ci sia un pubblico che lo faccia ed è un bene naturalmente che sia così però c'è una fetta di appassionati che vorrebbe prendere qualcosa ma deve trovare l'opportunità di farlo con macchine che abbiano un buon prezzo e che suonino bene è che questo era il caso di Yamaha devo dire che sia le torri che a te forse piacciono meno ma che io dovunque ho sentito ho sentito suonare bene sia queste nuove bookshelf che forse in effetti erano più adatte alla sala in quanto lievemente deprivate della gamma bassa secondo me hanno fatto un'eccellente figura infatti la sala era sempre piena si si poi vedi anche gli integrati però sai tornando invece alle dimensioni del prezzo di alcuni sistemi faccio un po' la bocca del diavolo perché è chiaro che un distributore che spende così tanti soldi per essere presente che ha nel suo catalogo prodotti di fascia altissima è chiaro che vorrebbe far vedere il meglio che c'ha cerca di far vedere o quasi il meglio che c'ha però se questo da una parte è normale perché da sempre l'attrazione è il flagship se tu hai una mostra di barche non ti fanno mai vedere la barchetta da 4 metri ma se producono quella da 10 ti fanno vedere quella da 10 perché poi su quella tu vedrai le qualità costruttive che apprezzerai su quella da 4 metri qui vale lo stesso principio è giusto far sentire prodotti di grande qualità purché però si offra ecco in questo caso per esempio Audio Plus è stata molto attenta perché ha presentato quell'impianto meraviglioso le Marte insomma davvero una cosa fantastica da sdilinquirsi però al piano inferiore c'era invece quell'impianto più alla portata delle tasche di molti che ugualmente suonava bene e ci si poteva dividere fra l'uno e l'altro è vero sì certo al piano di sopra a parte come avrà fatto a salire quella roba sopra non ce lo siamo ancora spiegato perché solo le Marten e le Septet che comunque costano 115 mila euro la coppia insomma sono impegnative come peso e un impianto in cui c'era Solution Alnick TechDAS insomma c'era un sacco di roba solo i cavi c'era tutto il set di fascia alta a Zensati solo i cavi si superavano i 70 mila euro e Natali è andato ben oltre con Transparent e tutte le meraviglie che c'erano lì assieme ai due finali di Agostino i Relentless i 1.6 cioè vabbè però ripeto erano impianti che suonavano però ecco mentre Emanuele Bassetti di Audio Plus si è portato un impianti due un impianto entry level no per il suo rango con con roba insomma abbastanza commestibile anzi due perché ce n'era un altro dietro anche carino di fascia un po' più alta era un impianto Atom e poi vabbè ha sparato quasi tutte le cartucce quasi tutte perché in realtà lì c'è della roba ancora di più e poi però ripeto c'erano impianti troppo pochi secondo me di entry level c'era anche Marans Italy che distribuisce Bauer's e Wilkins e c'erano le nuove 603 S3 alcuni hanno criticato un po' troppo piccole per sonorizzare tutta quella stanza sì in parte è vero ma in realtà si sono resi conto in molti quel diffusore che è abbastanza sensibile con l'integratino dico Hino il Marans il model 40N che abbiamo anche recensito su AV Magazine con misure ti rendi conto di quanto suonano quei 70 anzi 100 watt con quei diffusori in un ambiente così grande invece per esempio non ho apprezzato alcuni sistemi ma non il componente in sé ma come erano stati installati e guarda io non ho problemi per fare nomi e cognomi per esempio le sale di iFight iFight come Marans aveva parecchie sale c'era per esempio la sala bellissima con il sistema con le ATC le SMC le 150 meravigliose un affetto particolare per ATC perché rimasi volgorato decenni fa a Las Vegas in una delle dimostrazioni del Super Radio CD e c'era un sistema ATC 5.0 proprio con 5 ATC che non a caso sono speaker che vengono usati nelle serie di registrazione esatto non a caso per canalificazione separata dedicata insomma sono macchine di altissimo livello e quindi diciamo che da allora parliamo proprio del 2001 forse è nato un amore proprio che ancora non riesco a consumare tra le altre cose però ecco quella è una sala che mi è piaciuta suonava molto bene erano passive quelle che erano lì perché poi c'era l'amplificazione chord bellissima anche quella in una sala che suonava secondo me suonava suonava benissimo però è vero che io sono andato quando la sala era pienissima fin troppo piena di gente ho rubato subito un posto centralissimo in seconda fila in seconda terza fila e sentivo bene sentivo bene timbrica scena dinamica c'era tutto però quando ho fatto il giro per arrivare piano piano per fare il video anche per guadagnare quella posizione è chiaro stai vicino alle pareti e c'era tanta gente vicino alle pareti suonava di merda cioè col basso gonfio code la scena inesistente e anche ai due terzi di sala non c'era la gamma bassa per esempio quindi capisco poi chi scrive sui social questo faceva cagare sì ma se non hai pazienza e pretendi in cinque minuti che ti devi sedere no non funziona così negli eventi di questo settore sai Emilio c'è una pazienza devi aspettare il tuo momento e conquisti no intrincea la posizione migliore e così devi ascoltare poi c'è anche un altro problema in certi sistemi c'era della musica di merda ma scusami esatto cioè imbarazzate ecco qua magari preferisco non fare nomi o cognomi perché un paio di impianti con questo tipo di musica che per me diciamo per essere un po' più politicamente corretti non rendeva giustizia al sistema sono persone che conosco quindi gliel'ho detto direttamente però non gli voglio sputtare no ma è evidente però questo è della presenza del mediatore tecnologico e di un mediatore tecnologico che tendenzialmente non coincida con colui che vende o distribuisce certi prodotti cioè una persona che fa quello di lavoro adesso noi abbiamo un gioco facile a nominare il nostro Marco Cicogna che oggettivamente è a livello stato che ha reso la sala natali cioè in parte perché naturalmente nasceva già con i migliori giochi del creato però che ha reso la sala natali bella diciamo che lì il valore aggiunto di Marco Cicogna ma anche di altre persone è quello di scegliere di ascoltare l'impianto e magari di scegliere con la sua straordinaria cultura anche diciamo i brani giusti che mettano in evidenza delle qualità e magari riescono a nascondere anche dei limiti di quella installazione di quella sala però sai anche questo è importante penso per esempio forse c'eri anche tu non diciamo dove non diciamo chi però c'era una sala con un problema sulle basse frequenze e lui tra le 20 edizioni per dirti dei Carmina Burana che conosce è andata a beccare quella dove non c'era quella fondamentale i timpani erano me lo ricordo e quindi lì certo viene facile però anche lì c'è non è che c'era sempre solo Cicogna c'era anche Luca Natali che ha una particolare sensibilità no per la musica di qualità per le registrazioni di qualità top effettivamente da lui suonava sempre tutto benissimo e c'erano sempre contenuti di qualità straordinaria e lì lì suonava bene magari qualche volta hanno un po' esagerato col volume secondo alcuni io non c'ero ma posso immaginare il giorno prima si hanno un po' esagerato col volume però io che come sai sono un cacciarone non è che mi metta paura quando sento i Dand Agostino che iniziano a erogare la loro potenza mostruosa che li mette in una posizione un po' diversa da tutti gli altri finaloni presenti sul mercato naturalmente come sempre potenza mostruosa non equivale proprio forza la raffinatezza che puoi ottenere sui 10 watt però c'è da dire che le magi corrispondevano insomma un bel sistema con una gamma bassa ho sentito delle registrazioni di pianoforte anche un nuovo disco decca di Cicogna che non conoscevo straordinario con la scena con le dimensioni giuste con la profondità giusta con la definizione giusta veramente bellissimo ho sentito anche belle cose come ho già detto in ATC ho sentito anche in due modi diversi le Wilson le Banish da Mad for Music quelle da pavimento sono entrato due volte per fare il video prima mi sono seduto davanti mi aveva avuto un'impressione poi mi sono seduto dietro e non ho avuto un'altra anche lì a sottolineare di nuovo che bisogna fare attenzione e magari ci vorrebbe appunto come la chiedo il mediatore tecnologico chi è lì che dovrebbe anche dare qualche consiglio su dove sedersi e anche magari spiegare quello che stiamo ascoltando che cosa ascoltare perché abbiamo scelto quel brano che cosa mette in evidenza che poi la cosa che fa Cicogna ma che faccio anche io nelle dimostrazioni quasi sempre in video e in multicanale che erano sotto nella sala Sony gestita da bella con il 5000 il 7000 però non abbiamo avuto paura abbiamo messo due proiettori a confronto sì sì siamo stati molto coraggiosi e abbiamo fatto sentire poi a un certo punto è venuto anche Gianluca Bocci che saluto che è venuto a farci sentire ha fatto una demo con un'edizione pregevole in DVD dei GetroTal GetroTal sì me l'ha fatta vedere in stereo in alta risoluzione 2496 in multicanale anche in DTS full rate e abbiamo sentito alcuni brani in multicanale in stereofonia ed è stato interessante per il pubblico che non facevamo da tempo e che probabilmente rimetterò in lista tra le cose da fare nei prossimi eventi parlo di Gran Galà ai Fideliti a iniziare dalle Fideliti che ci sarà il 7 e 8 ottobre prossimo a Milano no stavo dicendo che forse la gente si dovrebbe permettere cioè i visitatori si dovrebbe permettere un pochino di tempo in più devo dire che io sono sempre stato uno mortifugi andavo a vedere il TAV di Milano quando c'era in una giornata partiva alle 5 e la sera tornava a mezzanotte a Roma insomma non era proprio una passeggiata di salute però questo serve se uno ha una frenesia quasi malata come la mia per vedere le novità eccetera ma non ti dà modo di percepire profondamente le qualità delle macchine la cosa migliore invece sarebbe poter mi rendo conto che è una cosa che costa però poter andare una prima giornata per dare un'occhiata a tutte le sale più o meno con calma e poi tornare una seconda per vedere quelle o che ci hanno convinto o che non ci hanno convinto perché certe volte come dicevi te semplicemente spostandosi rispetto al punto di ascolto scambiando 4 chiacchiere con la persona che è presente nella sala che ti fa capire quali sono i vantaggi e i problemi di quella sala o di quell'impianto cambia completamente il tuo giudizio come dici te vedo spesso dei giudizi un po' frettati diciamo merda che adesso si usa tanto oppure non so nirvana quando invece la nostra esperienza in quella sala di quei 2-3 minuti in cui siamo stati era semplicemente in una posizione sfavorevole o con un brano che non esaltava perché io più che il mediatore tecnologico più per utilizzarlo per nascondere i difetti che tutto sommato poi non sono così tanti lo utilizzerei per far percepire chiaramente alle persone che sono lì i pregi perché tutti questi set hanno dei pregi poi naturalmente hanno anche dei difetti ma se io vado lì vado per cercare qualcosa e il brano che mi viene proposto o addirittura venga abbandonato completamente da solo è probabile che non uscirò insoddisfatto e alla fine non si può dire non funziona la manifestazione non funzionano le certe persone in certe sale sì è vero però allora per essere chiari anche nella sala di Natali straordinaria se ti mettevi in fondo attaccato alla parete posteriore sono va di merda anche la sala di Natali eh attenzione quindi però se ti metti in fondo in fondo qualsiasi sala non solo era granchetta dai eh sì va bene se vai in una sala con un diffusore con ls35a e ti metti in fondo magari invece un po' di gamma bassa di arriva però a parte questa va bene va bene c'erano delle sale invece in cui i diffusori secondo me non erano sistemati al meglio ovvero erano sistemati in modo che lo sweet spot cioè i posti in cui si riusciva ad ascoltare decentemente erano troppo pochi o era uno o era uno esatto o era addirittura uno solo e comunque non perfetto quindi magari c'era il posto in cui era una scena era buona però magari la timbre non era perfetta eccetera e sale in cui per esempio i diffusori erano troppo lontani dalla parete di fondo e quindi c'era una gamma bassa che era diciamo un po' troppo asciutta per le potenzialità del diffusore invece c'erano per esempio delle sale allora parliamo di quelle invece buone per esempio c'era sempre delle sale con sistemi economici c'era DML Audio il distributore tra le altre cose di nuovissimo di M2 Tech di Manunta che fa un sacco di prodotti carini e aveva portato vari sistema audio i diffusori danesi molti dei quali sono attivi quindi c'era a parte quello che ha vinto l'EISA l'SA1 che è un sistemino un bookshelf on wall molto bello divertente c'erano gli SA40.2 i 60.2 che sono dei sistemi attivi che costano relativamente poco perché dentro c'è tutto c'è l'amplificazione c'è il DAC c'è tutto c'è anche il sistema wireless UISA e costano mi sembra il 40 costa poco meno di 6.000 euro ed erano sistemati anche bene e quindi diciamo c'era la timbre che era corretta e erano mi piaceva l'installazione altre invece erano sistemate un po' meno bene ecco diciamo così poi un'altra poi in questi giorni in cui stavamo preparando il reportage ho letto mi hanno segnalato delle cose ho letto anche delle cose alcuni si sono lamentati no? quelli mordi e fuggi che non c'era c'era poca roba non c'erano distributori più importanti mortacci di people cioè ma era lì cioè diciamo il gruppo iFi United c'era iFight che vuol dire c'era tanta roba c'erano parecchi distributori sì non c'era è vero non c'era audio gamma non c'era MP non c'era Tecno Futuro non c'era pixel engineering però d'altra parte ma dove avrebbero potute mettere? in questo senso le 24 sale so quelle non è che potevi mettere audio gamma dentro una breakout dove stavano le cuffie questo quindi sicuramente c'è modo c'è spazio per la fiera di crescere per fare delle installazioni come era il sim tu te lo ricordi il sim la voglia come meraviglioso ma immenso non bastava esatto esatto quindi lo spazio c'è bisogna capire se c'è la volontà di alcuni distributori di mettersi in gioco per non fare le solite salette ma per fare come si fa per esempio c'è una fiera che fanno a Rimini nella fiera proprio non nel palacongressi cioè nei panglioni grandi che è il Mirtec che è una fiera sicuramente più professionale in cui c'è l'audio video professionale c'è il digital signage e ci sono anche i sistemi di riproduzione sono da palco quelli usati per i concerti per esempio di discoteca dove ci sono i confronti cioè ci sono sui palchi e mettono i sistemi a confronto ci sono delle aree in cui ci sono dieci sistemi a confronto e li accendono una alla volta ecco io non dico che voglio costringere i distributori a fare degli shootout tra di loro ma anche all'interno dello stesso distributore a trovare un po' di coraggio a mettere a confronto anche i loro prodotti i loro stessi prodotti perché ce ne sono tanti ecco però abbiamo sempre detto che le metodologie di confronto dovrebbero essere serie sai però vuol dire se tu vuoi far sentire la differenza che ne so tra un'elettrostatica per dirti o una magnepan e un ABW dallo stesso identico prezzo lo puoi fare perché c'è il distributore che ha entrambi i prodotti ecco questo per fare un esempio se vuoi far capire qual è cioè invece di riservare questa fiera solo alla fascia altissima perché di questo stiamo parlando se vuoi allargare un po' di più la base dovresti proporre delle cose un po' diverse anche per fare un po' di informazione per far capire semplicemente cos'è la scena per dirne una per far capire la differenza tra uno smart da usare un solo smart speaker e due diffusori stereo cioè qual è il valore aggiunto magari anche far vedere una registrazione con la scena e una senza oppure far vedere qual è la differenza tra un ascolto in cuffia e un ascolto con due diffusori cioè argomenti ce ne sono tantissimi ma beh c'erano costruttori soprattutto per attirare più persone e le nuove generazioni perché di questo si tratta anche perché se in futuro che è quello l'obiettivo di chi organizza adesso la fiera di Rimini cioè portare le grandi aziende i televisori cioè riportare il grande pubblico cioè come fai poi a proporre è uno che viene a vedere un televisore che per quanto voglia costare adesso è su 98 pollici costa anche meno di 3.000 euro e poi gli fa vedere un impianto che non gliene bastano 300.000 di euro forse non è il massimo quindi pensare a degli spazi a dei contenuti che cercano di allargare di più e di avvicinare chi magari spende 3.000 euro tra smartphone con cuffie e altre cose molto utili che invece potrebbe avvicinarsi ad un settore che potrebbe dare ma guarda se non erro però alla mostra c'era presente quel nuovo costruttore Silent Slab che presentava tre impianti mi sembra dal costo intorno ai 5.000 intorno ai 7.500 intorno ai 10.000 che è una notizia positiva al di là del fatto in sé perché vuol dire che c'è ancora chi investe in questo settore peraltro dando un'occhiata rapida ho visto che mette a disposizione tutti i singoli pezzi dei propri altoparlanti che sono costruiti rigorosamente in Italia insomma è un segnale positivo l'ho trovato guarda allora se tu vai se vuoi vedere cosa vendono i vari distributori che erano presenti vuol dire anche Marans ha in catalogo lo E606 per esempio Bookshelf quasi entry level o le po ci sono dei prodotti Polk serie anche MXT che abbiamo usato per esempio alla fiera al Roma ai Fidelity anni fa che costano un'inezia ecco magari io posso capire lì c'è poco margine però il prodotto giusto per far avvicinare un certo tipo di pubblico o anche per fare un po' di formazione ecco è quello che mi dispiace però ripeto capisco benissimo le sale erano solo 24 i sistemi erano quasi il doppio perché in parecchie sale non c'erano due cioè in alcune sale c'era un solo sistema ma in alcune sale ce n'erano cinque funzionanti e quindi posso capire che il grande distributore si concentri sulla fascia più alta però ecco pensando all'edizione 2024 di Sintonia Audio Video Expo oltre che cercare di portare i grandi le grandi aziende legate più al video che all'audio o comunque all'audio video io cercherei anche di potenziare questa parte dell'audio che in definitiva nel top audio non è mai mancata perché è vero che c'era la Yen ma al top audio diciamo anche anche in questo forse qualche piccola nozione è stata portata il cuffiodromo con tutte quelle cuffie di grande qualità con preampi di grande qualità il corner dell'informatica dei videogiochi cioè sono cose che finalmente si aprono un po' anche a un pubblico più giovane questi sono due tipici ambiti nei quali i ragazzi si luffano con maggiore volontà anche lì una cosa che è stata fatta all'ultimo momento e lo so perché sono stato coinvolto perché siamo stati noi di Aviemagazin che abbiamo aiutato in quel caso Angelucci e Natali che portava una bella novità le due cuffie Odyssey le Maxwell Wildless con Dolby Atmos abbiamo portato l'Xbox e un PC con il nuovo gioco Starfield per sentire come il Dolby Atmos in cuffia attenzione col PC puoi sentire anche la musica in Dolby Atmos con quel sistema virtualizzato lì però comunque sono due due postazioni cioè dire c'era anche la Playstation 5 sotto con il nuovo monitor Sony da 98 pollici però è comunque un po' poco per muovere l'appassionato di gaming è un inizio però è un inizio però ecco lì andrebbe fatto cioè ci sono tante cose da fare sul gaming pensa ai grandi a parte i display tv ormai tutti sono hanno no funzioni pensate per questo settore no lag sempre più ridotti menu specializzati ma anche videoprezzioni sono dei videoproiettori con un lag bassissimo con cui è possibile costruire delle postazioni molto interessanti pensa che ormai il gaming quello di fascia alta dove ci sono i contest si fanno al cinema non tanto in Italia ma all'estero sì dove la gente paga il biglietto per vedere i contest al cinema con l'audio del cinema quindi ecco queste sono è un altro aspetto che potrebbe essere potenziato ma già solo se arrivassero i tv no cioè le grandi aziende delle tv le soundbar ecco sarebbe carino no prendersi la briga di mettere a confronto la soundbar contro un sistema no a componenti discreti dal prezzo simile comparabile anche perché non scordiamoci ci sono soundbar che costano anche più di 2.500 euro quindi così come sarebbe interessante anche verificare le prestazioni di queste nuove grandi tv che sono per molti me compreso un'assoluta novità cioè noi leggiamo questi polliciaggi monstre 98 85 insomma sì ok qualche volta li vediamo malissimo in qualche negozio della grande distribuzione organizzata ma è una cosa completamente diversa per esempio vedere i polliciaggi dal 65 appunto al 98 tarati messi vicino l'uno con l'altro la gente si sdivinquirebbe per una cosa del genere mi ricordo Emilio che anni e anni e anni fa tu facesti un confronto fra videoproiettori te lo ricordi in quella sala no? fantastica e quello ebbe un successo strepitoso se ne parlò per anni e anni e anni prima di tutto per il fatto che la gente finalmente poteva vedere questi proiettori senza sapere di che proiettori si trattasse quindi giudicava esclusivamente le immagini e per molti di noi è stata una sorpresa poi sapere che il proiettore che ritenevano migliore era di un marchio completamente diverso da quello che avrebbero acquistato ma la stessa cosa no? sì 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 diciamo quella è una formula che è difficile che torni perché adesso le differenze tra i vari prodotti tra le tecnologie sono molto più importanti quindi è anche più facile capire se stai vedendo un DLP per esempio un LCD o un DILA o un SXRD è molto più facile però dicevo tornando a a bomba sulla possibilità dei televisori sono immense io qualche anno fa quando a Bologna ci fu la prima edizione dell'audio video show organizzato da Audio Quality per esempio nell'hotel dove si fece questa prima edizione portammo due televisori allora c'era Metz che era distribuito da da Audio Gamma e nei due televisori misi un contenuto che era sicario un TV riproduceva il Blu-ray in HD con Gamma Dinamica Standard e l'altro TV l'edizione in HDR fianco a fianco ed era poi facevo delle sessioni ogni tanto in cui spiegavo quali erano le differenze tra l'SDR e l'HDR la stessa cosa si può fare si può fare anche oggi molte persone non sanno cosa è la differenza su per esempio la frequenza di quadro la risoluzione puoi fare HD contro 4K puoi fare SDR contro HD puoi fare il frame interpolation 24 Hz contro i 120 Hz per esempio si possono fare tante cose per avvicinare le persone per fargli capire come funziona la tecnologia per aiutarli a scegliere e alle aziende per mostrare al meglio i loro prodotti certo speriamo che si illuminino un po' questi soggetti che potrebbero fare questo perché basterebbe secondo me molto poco per fare molto per l'alfabetizzazione degli appassionati e peraltro ci sono larghe fasce di appassionati a cui piacerebbe molto una cosa del genere che se ne gioverebbero e che probabilmente potrebbero dare una spinta anche al mercato io ho detto anche all'organizzazione guarda sono disposto pure veramente a fare l'impossibile anche per aiutarli non parlo solo ovviamente di Sintoni ma anche degli altri eventi che vengono fatti c'è anche un altro aspetto che andrebbe migliorato perché a Rimini a Sintonie per quanto il numero di visitatori di ingressi complessivo sia comunque in linea con le altre fiere di settore in un ambiente così largo in alcuni momenti della giornata sembrano veramente pochi e infatti lo erano c'è stata una concentrazione di ingressi il sabato soprattutto la prima parte della giornata in cui c'era la fila per entrare nelle sale invece la domenica pomeriggio in cui praticamente non c'era quasi nessuno in giro ecco lì certo non è che puoi costringere le persone a distribuirsi però le puoi invogliare a ritenere la domenica pomeriggio esatto le puoi invogliare ma anche la domenica mattina dico volendo o il sabato pomeriggio creando degli eventi io pensavo ai concerti che sono stati organizzati nelle edizioni passate che quest'anno è mancato un po' il testimonial che facesse un po' di casino in giro ecco una roba del genere sarebbe altrettanto interessante perché no anche coinvolgere degli artisti che siano non troppo lontani rispetto al mondo della musica riprodotta e qui si aprirebbe un mondo veramente enorme però io sono certo che tra gli organizzatori e gli operatori con cui io sto parlando e con cui immagino parlerei anche tu penso saranno sensibili a questi consigli e che quindi non si potrà fare altro che meglio nella prossima edizione mi sono certo va bene allora sei pronto per il resto è che qua è passato Rimini ma adesso a inizio ottobre c'è il macello scaldiamo i poteri no? 7-8 ottobre c'è il Milano ai Fideliti al Mediano due settimane dopo c'è il Gran Galate d'Alta Fidelità sempre a Milano alle torri NH all'hotel NH Fiera con Emilio Cesare Ricci poi ci sono un po' di fiere internazionali perché c'è per esempio c'è l'audio video show di Varsavia l'ultimo weekend di ottobre sarebbe meraviglioso andarci io vado ovviamente spero che venga anche tu perché costa poco andare lì costa poco proprio stare a Varsavia e c'è e ne vale la pena dicono che è bellissimo e poi a novembre ci sono c'è il Gran Galà prima a Roma prima quello di Ricci e poi c'è il Roma ai Fideliti di Zaini che è l'ultimo weekend di novembre e negli stessi giorni poi c'è anche il Gran Galà a Padova e lì cercheremo di trovare il modo di clonarci caro Fabio e di essere presenti bisognerà dilocarsi la vedo è un po' complicata e poi però nel frattempo sarà un fiorire di eventi locali ovvero penso per esempio agli eventi che ha organizzato Diogamma dell'ascolto di Dark Side of the Moon in 10 anzi 9 perché quello di Napoli è fatto al Parco della Musica nazionale la prima edizione poi c'è stato Napoli da Chiappetta il weekend scorso e ci saranno varie edizioni e anche il 7 e l'8 cioè il weekend dell'iFidelity nella sala di Odio Gamma ci sarà anche l'ascolto di un sistema multicanale con il JBL Everest in cui potrei esserci anch'io forse si vedrà ma poi ci saranno altri eventi penso per esempio agli eventi che sono in programma per dirtene una con Epson saremo da Busceni saremo da Audio Quality a Bologna e saremo anche a Roma da Garman e so che ci sono altri eventi in cantiere di altri negozi importanti e poi dovrebbe esserci ma anche altro in serbo da qui fino a fine novembre sarà veramente un autunno molto intenso bene perché questo vorrà dire che gli appassionati potranno girare nella loro città più vicina per dare un'occhiata alle novità e fare e prestare orecchio alle cose più interessanti no? si 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 va bene Fabio grazie per sta chiacchierata grazie soprattutto per avermi aiutato con il reportage e ci vediamo a Roma molto presto benissimo ti abbraccio grazie a tutti ciao ciao